ciao e benvenuto sul canale in questo video vediamo come aggiungere frasi suggerite frasi suggerite sulla tastiera iphone vedete che scrivendo torno torno non esce nessuna parola frase suggerita allora andiamo su impostazioni quindi andiamo su generali quindi su tastiera quindi su sostituzione testo e clicchiamo sulla più in alto a destra qui scriviamo torno subito e all'abbreviazione scriviamo torno adesso salviamo quando andiamo in chat vedremo che scrivendo torno la frase suggerita uscirà sotto torno subito cliccate su torno subito e il gioco è fatto ok spero che questo video ti sarà utile se ti è utile lascia un like e iscriviti al mio canale di tutorial su youtube ciao